Sorair annuncia insieme ad AC Milan il lancio delle sue prime nuove card collezionabili e digitali in 3D con funzione di realtà aumentata. Presto quindi tutti i giocatori rossoneri saranno disponibili all'interno della piattaforma Sorair, le cui funzionalità di gioco saranno ancora quindi più coinvolgenti e stimolanti. Ma i vantaggi non finiscono qui, perché Sorair e AC Milan hanno pensato di lanciare una speciale caccia al tesoro, tramite la quale due utenti verranno premiati con 5 card rare della squadra rossonera, ma in particolare una speciale experience di volo insieme a Mister Pioli e compagni in occasione di un incontro europeo.